La Corte di Giustizia federale ha accolto la richiesta di revisione del procedimento avanzata dal Potenza Sport Club, la società del capoluogo esclusa dal campionato di prima divisione di calcio al termine della stagione 2009-2010 per gli eventi legati all'inchiesta su un presunto giro di scommesse che coinvolse tra gli altri il presidente Giuseppe Postiglione In seguito, come ha spiegato ai giornalisti l'ex patron, la soluzione per non aver commesso alcuni dei fatti attribuiti lo ha indotto a ricorrere alla Corte federale per la revisione del procedimento. Oggi i giudici hanno dichiarato fondate le premesse della richiesta rinviando la discussione del caso. Se la tesi dei Lucani venisse accolta, il Potenza Sport Club potrebbe essere ammesso d'ufficio a un campionato di categoria inferiore rispetto alla prima divisione come la Serie D, anche se l'obiettivo dichiarato di Postiglione è la partecipazione a un torneo professionistico.